Forza viola ragazzi! Bene per il morale, non lo so per la classifica, in molti dicono che forse l'ottavo posto potrebbe valere l'Europa, non lo so. A me quello che mi interessa è che oggi la Fiorentina abbia vinto perché era importante tornare a vincere, perché era da un po' di tempo che non si vinceva, ma era da un po' di tempo che non si subiva gol, quindi un 2-0 figlio di un Udinese che ovviamente non è più l'Udinese di inizio campionato, quella che ovviamente tutti quanti osannavano, che addirittura era nelle posizioni alte, che si parlava di Europa, di Champions, insomma un Udinese che adesso è stanca, un Udinese che secondo me è anche un po' priva di idee, e la Fiorentina dopo la sconfitta cosciente, la delusione che ci stiamo portando dietro da giovedì sera, dove praticamente non l'hai chiusa, anche se hai giocato bene, benissimo il primo tempo, sei calato nel secondo tempo e non solo hai permesso a loro di pareggiare, ma hai permesso a loro di vincere 2-1, oggi era importante fare la prestazione e tornare a vincere per il morale, per il morale ragazzi, ok per il morale, titolo della copertina, perché oggi fa tanto morale aver vinto 2-0 contro l'Udinese, vi invito a seguire gli amici di Spessi Viola qua sotto il link in descrizione, come sempre ragazzi vi va a seguire anche me, lo sapete quali sono i miei social, tanto è inutile tutte le volte di dirlo. Sono contento per Castrovilli, che torna a segnare tra l'altro terzo gol all'Udinese, in questo momento la vittima preferita di Castrovilli è proprio l'Udinese, sono contento per Jack Bonaventura, che non ho ben capito che sia successo a fine partita, con il parapiglia, con Becao, poi alla fine tutti e due espulsi, non so se si verrà fatto ricorso, spero ovviamente che il calciatore si prenda una sola giornata, però onestamente non ho ben capito in quella confusione, c'è se volata qualche parola di troppo e l'arbitro ha estratto il cartellino. Sono espulsioni stupide, lo dico subito, da un giocatore come Bonaventura, esperto, non me l'aspetto queste cose, però devo dire che il gol di Jack Bonaventura è di un giocatore con la classe, un giocatore che bassa in altri livelli, che quando è in forma, quando è in palla, riesce a fare cose che gli altri non riescono a fare. Comunque un 2-0 che ai fini della classifica, ripeto, potrebbe essere ovviamente fondamentale, perché poi alla fine ragazzi siamo sempre là, magari non gli dà importanza, poi alla fine manca un punto, dice vedi se si dà importanza, quindi è bene che la Fiorentina comunque continui questa voglia anche in campionato, dove ha perso dei punti, ovviamente essere distratti per la Conference League, oggi io mi aspettavo la distrazione a parte della Fiorentina, invece ho visto una Fiorentina concentrata sulla gara, quindi questo mi fa molto piacere, tra l'altro si è giocato in un modo diverso, perché ragazzi non so se ve ne siete accorti, ma la Fiorentina ha giocato in modo intelligente, cosa che non è sempre scontato fare, in modo intelligente non si è spinta troppo avanti, non ha giocato con una difesa altissima, quindi non ha dato modo all'Udinese di ripartire in continuazione contro piedi, quindi ha avuto un sistema di gioco leggermente diverso, forse anche in vista della partita proprio con il Basilea, perché ragazzi è inutile parlarci chiaro, oggi la partita la guardavamo da spettatori, tifosi della Fiorentina che ci fa sempre piacere vincere contro tutte le squadre, questo è ovvio, ma tutti noi andiamo in testa giovedì, perché giovedì la Fiorentina si è complicata il cammino, è la realtà dei fatti, però il gol fuori casa non vale più, quindi questo ti dà un vantaggio del tipo ok, la Viola in Conference League paradossalmente ha sempre fatto meglio fuori casa, quindi mi auguro che andandola giù in Svizzera, troveremo una squadra che si difenderà, che ripartirà in contropiede, e tu ovviamente sei obbligato non a gestire la gara, ma a farla, a fare gol subito, cioè tu devi cercare nei primi 15-20 minuti di andare solo 1-0, subito, perché in questo modo costringi il Basilea poi a dover obbligatoriamente andare a cercare il gol del pareggio, ok, perché altrimenti si va avanti, ecco quel è il concetto fondamentale di giovedì, dovremmo essere stra-propositivi. Menzione per Brecalo, mi è piaciuto molto il primo tempo di Brecalo, si è un po' perso nel secondo, ma come un po' tutta la squadra, cioè io vedo una Fiorentina che nei secondi tempi cala vistosamente, che paradossalmente è un po' quello di italiano, cioè ragazzi vogliamoci che anche l'anno scorso avevamo questi cali, era ovvio, o si ridava il primo o si regalava il secondo, ve lo ricordate? Ecco, ultimamente la Fiorentina non riesce a fare 90 minuti alla perfezione, ma ultimamente non riesce neanche a farne 70, non riesce neanche a farne 80, cioè fare un buon primo tempo, i primi 5-10 minuti e poi comincia a calare, come se fosse in debito d'ossigeno. Ci sta un po' di stanchezza, siamo alla 53esima partita, non mi ricordo, insomma sono tante le partite di questa stagione, però adesso sono quelle che contano, e dispiace non aver avuto forse una gestione di Rosa, in cui l'italiano inizialmente faceva tanto turn-over, poi ha smesso di fare quel turn-over, i risultati gli davano ragione, adesso siamo a rifare un po' di turn-over, e andare a riscoprire anche dei calciatori, perché ragazzi Duncan è stato completamente riscoperto, fortunatamente, ha detto anche l'italiano, mi sta mettendo in difficoltà Duncan, perché se era un po' smarrito, ora invece sta tornando, quindi, ma fatemi dire anche Brecalo, cioè Brecalo è un giocatore che secondo me è strasfortunato ragazzi, perché in tre occasioni, tre volte è riuscito ad andare avanti al portale, tre volte ha preso il palo, anche oggi ha preso il palo, giocatore sfortunato però ha quel guizzo in più, quindi io una staffetta Brecalo-Nico Gonzalez in Conference League, attenzione, non è da sottovalutare, perché potrebbe essere una cosa interessante, perché se Iconé viaggia ancora a intermittenza, e qua a me sembra fare meglio la fase difensiva che quella offensiva, e là davanti ovviamente ci dovrebbe essere Arthur King-Kanabral, che in questo momento è il mattatore di questa Fiorentina in Conference League, è il capo cannoniere di questa squadra, insomma ci si aggrappa alla sua voglia di ritornare nel suo stadio e gonfiare la rete avversaria, perché qui ci si aggrappa, non voglio parlare di polemiche di Terzic e Jovi, tra l'altro Terzic ha anche giocato, è entrato dopo un quarto d'ora del secondo tempo, quindi non voglio fare queste polemiche, però credo che Jovi ci sia fatto tutta la panchina, ma potrebbe essere anche quell'arma in più, proprio contro il Basilea in Svizzera, perché poi i ragazzi dobbiamo andare a vincere, quindi la vittoria di oggi ti consegna una Fiorentina con un morale sicuramente più alto, vincere aiuta a vincere, pensiamo che se oggi la Fiorentina avesse pareggiato male o avesse perso, sicuramente sarebbe arrivato in Svizzera con un morale un pochino più basso, questa è la realtà dei fatti ragazzi. Detto questo, insomma, vittoria di morale, vittoria di gruppo, vittoria di squadra, adesso ovviamente contenti, ma a volte dico pensiamo al giorno dopo, domani si pensa a Basilea, no. Ora, al triplici fischio, dobbiamo già essere con la testa col Basilea, perché è un appuntamento a non sbagliare ragazzi, ci si vede in settimana, cerchiamo di capire le formazioni, la formazione palpable della Fiorentina, e poi ovviamente ragazzi, giovedì appuntamento dentro o fuori, è un dentro o fuori. Forza Viola.